Il più grande matematico viviente si chiama Terence Tau, è del 1975 ed è australiano, vediamo insieme la sua incredibile vita. È ovviamente un bambino prodigio, all'età di 9 anni, mentre faceva non so cosa, lui inizia a frequentare i corsi di matematica all'università, vince la medaglia d'ore all'Olimpiadi di Matematica a 13 anni e si laurea, tardissimo, a 17 anni. Finisce il suo dottorato a Princeton all'età di 21 anni e vince la medaglia Fields, cioè il più grande riconoscimento della matematica, diciamo il pallone d'oro della matematica all'età di 31 anni nel 2006. Il suo più grande contributo è il teorema di Green Tau sulle progressioni aritmetiche. Dopo aver letto della sua vita io mi sento un fallito proprio.